Con l'arrivo della bella stagione, il problema di come allontanare i piccioni dalle proprie abitazioni si fa sempre più sentire. Ecco i metodi non invasivi e che non fanno male ai volatili. Quando si pensa a come allontanare i piccioni, è molto importante pensare prima di tutto alla loro incolumità. Se da un lato è vero che spesso tendono ad essere rumorosi e che i prodotti di scarto che lasciano in giro sono piuttosto seccanti da smaltire, dall'altro rimane indispensabile trattarli bene in quanto esseri viventi. È quindi importante trovare delle vie di mezzo che li tengano lontani, lasciando balconi e giardini puliti senza gravare sulla loro salute. Se è vero che in giro esistono prodotti aggressivi e che sarebbe davvero il caso evitare, è anche vero che ci sono diverse alternative più soft che possono tornare utili. Riguardo a come allontanare i piccioni dal balcone, ad esempio, ce ne sono di davvero semplici da attuare. Il primo consiste nel posizionare sul balcone, o in prossimità di dove sono soliti fermarsi, degli spaventapasseri che in questo caso saranno delle sagome simili a quelle di un volatile. Visto che i piccioni hanno paura degli altri volatili, dovrebbero evitare di avvicinarsi. Un altro modo è quello di posizionare degli oggetti riflettenti di cui questi volatili hanno particolarmente paura. Dai cidi usati alla carta stagnola, ogni tipo di astuzia sarà più che sufficiente ad evitare che si avvicinino. Se oltre a come mandare via i piccioni, il problema sta proprio nel non farli avvicinare. In commercio esistono degli oli essenziali resistenti all'acqua che servono proprio a questo, e che posizionati nei punti strategici porteranno i volatili a non avvicinarsi senza fargli male. Se si vuole fare tutto da sé, si può invece optare per del peperoncino. Questi si potrà posizionare in piccoli vasetti, da mettere vicino alle piante o nei punti in cui tendono ad avvicinarsi. In questo modo li si terrà lontani senza far loro alcun male, e si potrà tornare a godere dei propri spazi all'aperto.